e allora amici un bel ritrovato innanzitutto indossate i vostri occhiali in 3d ed entrate nel mondo di 3d magic il primo programma tv in 3d dedicato al mondo della magia e allora rimanete con noi perché in questa puntata di 3d magic ne vedremo veramente delle belle una mona 3D Magic, Raul la prima televisione in 3D e bellissimo da parte anche del pubblico che ha a casa vedere Raul Cremone in 3D. Sono curioso, mi piacerebbe vedere questa magia nuova, forse in questi ultimi anni c'è stata molta comicità e ci siamo un po' dimenticati queste arti parallele come la prestigiazione ma questa sera si vedranno dei veri maghi. È vero Raul chiudiamo con un gesto magico per eccellenza ma fatto un pochettino più davanti alla camera perché siamo in 3D. Il gesto è Sim Salah